Albano canta l'inno di Mameli alla finale di Coppa Italia Estona. Piovono le critiche e lui si difende, sostenuto dalla figlia Romina, che affida la sua protesta ai social. Albano Carrisi ha certamente un gran numero di fan, ma deve sopportare le critiche di un pugno di detrattori, che lo hanno ad esempio criticato per la sua esecuzione dell'inno di Mameli alla finale di Coppa Italia Atalanta Juventus, che è stata giocata allo Stadio Olimpico di Roma. Prima che l'incontro sportivo cominciasse Albano ha intonato, fratelli d'Italia, ma qualcosa è andato storto e molti non hanno apprezzato la sua performance, giudicandola stonata. In difesa del cantante è intervenuta sua figlia Romina Carrisi. Albano li conosce di aver stonato ma la figlia Romina lo difende. All'indomani della sua interpretazione dell'inno di Mameli, Albano ha riconosciuto di aver stonato. Nella sua lunga dichiarazione alla presse si legge. Ormai ho capito che c'è una parte dell'Italia che stravede per me e un'altra che non mi sopporta, ma questo è successo anche a Cristo. Figuriamoci a un povero cristiano come me. Se ho steccato, sì, lo ammetto, lo dico io per primo anche perché se n'è andata un po' la voce e, quando non senti, la voce se ne va per affari suoi. Cantare in uno stadio tra i tifosi? Se è un concerto i tuoi fan vengono per vedere te, allo stadio vengono per vedere due partite e c'è una parte contro l'altra, cosa inevitabile. Se la rifarei questa esperienza? Senza dubbio sì, però so che è ardua. Che cosa si prova a fare le cose impossibili, mi piace provarlo sulla mia pelle. A sostenere Albano ci ha pensato dunque sua figlia Romina, che ha preso le difese del papà su Instagram. Ecco le sue parole. Voglio sentire voi cantare davanti a 70.000 persone a cappella cosa combinate. Delle esse visature e interpretazione però tutti muti. È stato bravissimo.